Ci siamo ancora? Ti sei rilassato? Prosegui su via della fontanella, sali la scalinata e goditi i profumi e la tranquillità. Questo è un angolo nascosto e poco conosciuto di Vita la Santa. Grazie a tutti. Sulla strada che porta Pietrasanta è un monte sanguinante. Esso spinge gli olivi giù dal corpo grigiastro come un saio polveroso di pellegrino e mostra la valle trassognata che non ha voluto prestargli fede, le ferite sul petto. Marmo rosso spruzzato sul corpo grigio. Il paesaggio ha un carattere piano e amabile. Uliveti sotto i quali pascolano pecore accompagnano in interrotti una strada dritta che irrompe infine nelle mura di Pietrasanta, sboccando nella piazza principale della cittadina. Rainer Maria Rilke Il sentiero ti porta in via del teatro. Gira a sinistra e ci vediamo nella piazzetta davanti al teatro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.